Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento di blog sicilia.it. Noi abbiamo dedicato molte di queste settimane alla lettura dei dati, alla campagna elettorale, raccontando appunto quello che è successo. Ma ora che queste contese sono finite, è giusto ritornare a parlare della vita della società di tutti i giorni, i problemi quotidiani, cosa meglio se non parlare di scuola? E ne parliamo oggi con Fabrizio Capanna, che è stato paracadutato dopo una vita nella finanza internazionale da Londra, qui in Sicilia. Benvenuto Fabrizio, tu hai una versione molto british del giornalismo, quindi diamoci direttamente il tu. Assolutamente, grazie tantissimo dell'invito, grazie a te e grazie alla pazienza degli ascoltatori che sentiranno i nostri entusiastici sproloqui su quella che sentiamo. Però sproloqui, parliamo comunque, quando si parla di scuola si parla ovviamente del futuro dei nostri ragazzi. Assolutamente, noi questa l'abbiamo presa veramente come una missione. Tu dicevi bene, io ho fatto tanta finanza, ho lavorato quasi sempre a Londra, ma sono tornato proprio con l'idea di dare un cambio, dare un segno in qualche maniera, creare del valore aggiunto per le giovani generazioni. Non facciamo pubblicità accolta, tu dirigi un gruppo, sei il presidente di un gruppo che ha creato a Palermo un liceo linguistico particolare, si chiama Keynes. Io spieghiamo ai nostri aspetti, perché Keynes è il nome più discusso dell'economia mondiale, perché faccio un esempio a tutti e ti rubo qualche secondo. Fino a qualche settimana fa il premier Mario Draghi, era premier appunto, scusate il gioco di parole, gli si rimproverava di non essere stato nel suo passato troppo keynesiano e forse adesso sin troppo keynesiano nella spesa. Chi è la Keynes, visto che gli avete dedicato un liceo? Keynes era un personaggio eccezionale, faceva parte del circolo di Blosbury, che all'inizio del 1900 ha creato un rinnovamento culturale, sociale ed economico all'interno dell'Inghilterra e poi del mondo, e affrontava l'economia con le armi della psicologia e una profonda conoscenza delle persone. Quindi lui riteneva che il mondo dell'economia non fosse, come lo pensavano gli economisti classici, un misurino da adottare che ad azione A facesse corrispondere reazione B. Lui pensava... La variabile umana. Assolutamente, è stato il primo economista che ha considerato quella che poi adesso è diventata finanza comportamentale. Ora ci vincono i premi Nobel nel 2002, nel 2017, dei comportamentalisti hanno vinto i premi Nobel, ma Keynes è stato il primo che ha pensato, consideriamo l'uomo al centro dell'economia. Era un uomo, ti ripeto, di education, si direbbe, di cultura eccezionale e che in qualche maniera a rivoluzione dell'economia, sono profondamente keynesiano. Draghi poteva essere più keynesiano, forse. Sicuramente ai tempi degli anni 90, quando era alla Banca Italia, non era tanto keynesiano. Allora, diciamo che poi c'è un'interpretazione, non vorrei annoiare, dobbiamo parlare di ragazzi, ma c'è un keynes previsto da sinistra o keynes visto da destra? Ci sono tanti malintesi. Io adoro Keynes, probabilmente la sede più adatta è vederci un'altra volta e parlare di Keynes. Questo sì, lo facciamo sicuramente. Perché penso che sia un personaggio interessantissimo. Noi ci basiamo come filosofia, vogliamo dare un termine, filosofia con la F minuscola, non diamoci troppa importanza, l'autonomia è fondamentale, ma la nostra filosofia si basa proprio su questo. Mettiamo al centro l'uomo o l'uomo in fieri, il ragazzo. La nostra idea è cercare di individuare i talenti in ciascun ragazzo, sviluppare questi talenti per portarli a una piena realizzazione. La piena realizzazione porta alla felicità. Quindi questo è il nostro compito, cercare di creare dei ragazzi in grado di essere felici, realizzati sul lavoro, realizzati come persone e aperti all'influenza. Io forse però ho commesso un errore, perché ho definito questa scuola che era da Palermo, un liceo linguistico, ma in realtà l'obiettivo che ti sei dato, proprio perché con la tua formazione economista, da economista ti rendi conto che è necessario creare un ciclo nella formazione. Si parte dalla scuola dell'infanzia, si passa alle medie, poi si arriva al liceo. Si parte ancora prima, fanno molta tenerezza, ci sono i bambinetti di 12 mesi che già sono accolti nel nostro nido. Abbiamo un nido, noi abbiamo un nido, che poi cresce attraverso una scuola dell'infanzia, abbiamo la primaria, dove l'enfasi è posta già sul bilinguismo. Noi facciamo, pensa, 10 ore di inglese a settimana rispetto alle due che ci chiede il ministero di fare. Quindi nido, infanzia, primaria, le medie, sulle quali mi piacerebbe fare il focus e concentrare un po' l'attenzione, perché l'ultimo progetto... Ma sono un po' la scuola dimenticata, no? Tutti pensano all'elementare e al liceo. Sono un tredumore fondamentale. E poi arriviamo al liceo linguistico, ma il liceo linguistico è stato accoppiato da quest'anno da un'iniziativa unica in Sicilia e dovrei dire in Italia, c'è qualcuno che sta provando a farlo, ma noi siamo sicuramente i primi, e questo di nuovo discende dal mio background, io ho lavorato tanto con le scuole in Inghilterra, poi magari ne parliamo, e abbiamo creato anche una sezione A-Levels, che cosa vuol dire il diploma liceale inglese, sostanzialmente. Quindi i nostri ragazzi negli ultimi due anni seguono dei corsi, se lo vogliono, non sono costretti, in parallelo, avranno la maturità linguista italiana, ma anche il liceo inglese. Questo liceo linguistico inglese è di fatto un'autostrada aperta per le migliori università del mondo, non solo quelli inglesi, pensiamo a Oxford e Cambridge, ma anche a Harvard, Yale, Berkeley, perché ci sono dei canali diretti di comunicazione tra chi fa questo specifico diploma inglese, che noi curiamo, e queste università. Quindi l'obiettivo è dare ai ragazzi che seguono questo ciclo di studi una formazione tale che poi li possa fare diventare dei veri cittadini del mondo, competitivi. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che noi vogliamo procedere per stadi successivi, quindi prima noi cerchiamo di sviluppare le capacità dei ragazzi, l'autocoscienza, la capacità di vivere in comune, il comprendere che la varietà è bella. Io non parlo mai di diversità, perché la diversità presuppone un canone. La cosa bella è che nella nostra scuola ogni bimbo, e poi ragazzo, e poi giovane adulto, è un individuo che è apprezzato per quello che può dare. Quindi noi cerchiamo di creare delle personalità. Queste personalità si confrontano con degli obiettivi accademici, via via più sfidanti, in una logica che parte dal territorio. Io dico sempre che abbiamo i piedi in Sicilia, il cuore in Italia, ma lo sguardo non può che andare al mondo. E quindi noi creiamo progressivamente delle persone che siano in grado di affrontare le sfide della vita in maniera piena. A proposito di sfide della vita, io, diciamo, chi ci sta seguendo, a questo punto vorrei chiederti un attimo di pazienza. Noi abbiamo mandato una truppo a verificare. Me l'hanno detto, me l'hanno detto, sì, sì. Quindi abbiamo che controllare. Lo so, lo so, avete intervistato quasi tutti i miei collaboratori principali. E ora tocca a te, quindi. Adesso sono curioso di vederlo. Vediamo che succede. Prego alla regia di mandare in onda questo contribuatore realizzato a Antonio Turco. Siamo partiti quest'anno con il liceo linguistico, che in realtà abbiamo già da anni, con il corso delle medie, che invece è proprio nuovo, e poi con il corso degli high levels, che appunto è un valore aggiunto della scuola, perché permette ai ragazzi che si iscrivono da noi di prendere anche la maturità inglese. Assieme noi alle tre lingue che i ragazzi studiano in tutti i licei, che sono in questo caso inglese, francese e spagnolo, e aggiungiamo un'ora di arabo al posto della religione. Io ho degli insegnanti stupendi. Ti aiutano, comunque tu non entri in classe con l'ansia magari di un'interrogazione o di un compito, ma comunque è tutta una cosa molto tranquilla. Io personalmente ho scoperto lo basket in questa scuola. Prima non lo praticavo, al terzo anno mi sono cominciata ad avvicinare anche grazie al mio proprio educazione fisica. Anche dal punto di vista umano, i professori hanno più opportunità per regalarti più tempo, più attenzioni, e questo aiuta molto, sia dal punto di vista didattico, ma anche personale di un anunno. Offre molti spazi, in cui si fanno molti laboratori che vengono proposti, tra cui teatro e musica. L'obiettivo del mio lavoro è quello di garantire a ogni bambino la libertà di esprimersi sia al nido che all'infanzia e alla primaria e questa scuola permette di farlo anche fino appunto al liceo. Ogni singolo bambino ha una propria identità, un proprio valore e una propria ricchezza, quindi venire qui è cercare di tirare fuori il meglio da ogni bimbo, accompagnarlo all'interno di un percorso improntato al bilinguismo, all'interno della ricerca del proprio talento e alla ricerca della propria ricchezza. La qualifica, il diploma inglese che si ottiene attraverso il Keynes a Palermo dà accesso alle università inglesi immediatamente. Ed eccoci tornati nuovamente in studio. Mi sembra una panoramica abbastanza precisa, l'ho visto tanti volti sorridenti, però a questo punto voglio fare un po' l'avvocato del diavolo perché le interviste in ginocchio anche no, ma c'è questo sforzo imprenditoriale, c'è questa dimensione che volete dare a una formazione dell'individuo che sia centrale, ma questo non sarebbe compito dello Stato? Allora, in teoria sarebbe compito dello Stato. Noi pensiamo che lo Stato in qualche maniera debba svolgere un ruolo di supporto e di indirizzo, ma non un ruolo esclusivo. La ricchezza delle società plurali, come sono le nostre società occidentali, liberali, noi crediamo molto nei valori liberali, è determinato anche dalla compresenza, a volte collaborazione, a volte addirittura concorrenza tra lo Stato e il privato. Se il privato ha un'iniziativa, ha il desiderio di creare un qualche cosa di diverso e nuovo, deve poterlo fare. Noi abbiamo impiegato delle risorse non indifferenti, visto che la struttura è molto bella, è una struttura centenaria, è una struttura che... Sì, questo poi lo prepariamo perché, diciamo, nel cuore di Palermo, in un luogo storico, dove combaciano due realtà scolastiche che hanno una grande tradizione, in realtà Keynes ha un paio d'anni di vita, ma in realtà è una tradizione centenaria. Assolutamente, assolutamente, noi cerchiamo di costruire su quella tradizione. Ecco, diciamo, ne abbiamo costruito due... Però una domanda, prima di parlare, ma lo Stato vi aiuta in questo compito, vi mette barriere? No, allora... Lo immagino, sì, sì. Hai toccato un tema piuttosto spinoso, e vi metti in difficoltà. Comunque, no, no, io sono disposto a rispondere a queste domande. No, ma spinoso, cioè, cosa è semplice, cioè, voi fate dei programmi che sono completamente... sono il compendio di quello che fa lo Stato, in più mettete, come dire, i vostri skill che sono identificativi della vostra, come dire, matrice che date all'esterno. Assolutamente. Vi aiuta in questo certo? Allora, lo Stato per certi versi ci aiuta, per altri ci mette degli ostacoli, delle difficoltà o ci impone dei paletti. Alcuni paletti sono sacrosanti, perché noi come scuola paritaria dobbiamo aderire a un programma che in qualche maniera è autorizzato dal Ministero competente. Quindi quello assolutamente sì. Noi possiamo fare di più e non di meno di quello che ci impone lo Stato. Ci sono alcuni aiuti che lo Stato potrebbe concedere che fa in altri paesi, ci sono altre nazioni, penso alle nazioni della Scandinavia, ma anche alla Germania, dove il sistema scolastico della scuola soprattutto secondaria superiore è più supportato di quanto non lo sia, è in Italia, dove lo Stato riconosce in maniera più ampia il coinvolgimento dei privati. Siamo supportati dallo Stato soprattutto per quanto riguarda le scuole dei piccoli, l'infanzia e il nido hanno alcuni contributi da parte dello Stato, ma sono, non dire che fuori una goccia nell'acqua sarebbe irriconoscente di un affluttio dello Stato. Ma questa potrebbe essere, questa diciamo è stati la politica, perché potrebbe essere anche la cattiva coscienza. Noi sappiamo che la Sicilia è la regione che ha il minore numero di asili di nido. Sì, sì, no, assolutamente. Quindi assolvete anche una funzione sociale a questo punto di vista. Questo sicuramente sì, però poi c'è l'altra faccia della medaglia, una faccia della medaglia che lo Stato dice, bene, d'accordo, tu fai in parte quello che dovrei fare io, ti do delle regole principali e poi ti do un minimo di aiuto economico. Un minimo di aiuto economico è sempre apprezzato, io sono per educazione abituato a ringraziare chi mi ha aiuto. Beh, è molto chinesiano a cercare gli altri economici. Esatto, assolutamente. Si vede che tu mastichi l'economia. Ma d'altro canto però, d'altro canto poi ci mette alcuni limiti di carattere operativo, eccetera, che in qualche maniera ci mettono in difficoltà. Noi abbiamo, per esempio, vorrei dire una cosa che di questo me ne faccio veramente un vanto. Noi cerchiamo per quanto possibile in primo luogo di assumere in base alla meritocrazia, cerchiamo di assumere quasi sempre a tempo indeterminato che non dei contratti di questi particolari che in qualche maniera fanno risparmiare e che vogliamo costruire una comunità anche didattica oltre che una comunità di ragazzi e di famiglie. Ci proviamo ed è uno sforzo economico non indifferente devo dire e ultimo camio che devo darti noi abbiamo circa l'85-88% di dipendenti donne. Quindi direi che per l'uguaglianza del genere facciamo molto. Ultimissimo corollare a quello che ti ho detto noi ospitiamo ai piani inferiori del nostro edificio un'associazione il Centro Penci che è collegata all'UNICEF che opera nel reintegro nell'istruzione e reintegro di migranti e noi cerchiamo di essere l'ultimo anello della catena offrendo lavoro ad alcune delle persone che escono ad esperienze drammatiche inserendolo nel nostro organico. Quindi cerchiamo di dare gli spazi collaborare. A me sembra di poter dire che la vostra esperienza sul territorio al di là della missione imprenditoriale che è necessaria perché siete degli imprenditori ma potrebbe dire che avete realizzato il sogno di una Palermo multiculturale multietnica che si proietta verso... Ma io ci credo molto non sono parole veramente chi mi conosce lo sa perché insomma in 58 anni di vita mi sono sempre occupato anche di questo siamo insomma del 64 e mi sono scusate e si vede che sei un po' più vecchio di me scherzo un anno di meno ah di meno ah no te li porti male scherzo scherzo no no però voglio dire che detto questo questa battutaccia la trasmissione finisce qui e non verremo più ospitati mai più ospitati no no ma ti dico non ho mai sentito no no ti dico quindi veramente fatti gli scherzi no veramente un piacere di chiacchierare con te a parte tutto quindi spero che si ripeta l'esperimento assolutamente anche perché ho avuto un'idea vediamo se poi appena finiamo la puntata ti farò una proposta alla quale non potrai rifiutare e se no in Sicilia mi metti paura con una frase del genere ma io ho voluto sfruttare appunto no ma voglio dire che noi veramente chiamo io il mio socio Michele Limecchi tutte le persone che ruotano intorno ai nostri primi collaboratori avete intervistato molti dei nostri collaboratori principali e non è ma sai qual è la cosa aspettativa tu sei abituato a fare le dirette su Bloomberg su CNN quindi là il tempo tranquillo noi siamo sicuri il tempo se lo giochiamo se lo scioliniamo in maniera più come dire rilassata ok ma la cosa sono tutti sorridenti se no vai in una scuola pubblica hanno tutti le facce scusa tutti incazzati ti posso dire una cosa la mia preoccupazione e ti giuro io lo so ma anche i ragazzi l'hai visto anche i ragazzi i ragazzi sono felici questo è il nostro obiettivo il mio compito essere al servizio dei ragazzi per metterli in condizione di essere felici e di apprendere ma soprattutto dei miei dipendenti un vero manager è a disposizione i dipendenti io voglio che le persone lavorino con il sorriso con le labbra come giustamente detto te non solo perché è giusto perché sei che è un ambiente sano ci diamo tutti del tu dalla donna delle pulizie a me che sono incidentalmente la figura apicale non vedo l'ora di lasciare questo ruolo operativo che mi diverte tanto mi piacerebbe andare in aula a insegnare magari in età anziana abbiamo denunciato la nostra ragazzini smettila ma sei particolarmente antipatico no ma devo dire che questo è il mio obiettivo il mio obiettivo è creare un ambiente sano veramente una brutta persona perché l'ambiente sano si produce di più guarda noi adesso gli elevers sono veramente un grande obiettivo però ti posso chiedere una cosa spieghiamo esattamente gli elevers cosa sono perché secondo me ci saranno tanti genitori che saranno ascoltandoci e magari vogliono questa chance per i elevers assolutamente cosa serve le elevers e che vantaggio dà benissimo allora in Inghilterra tradizionalmente si sostengono due tipi di esami il GCSE verso i 16 anni che è come fosse una prematurità e a 18 anni 18 anni e mezzo si sostengono su dei temi particolari che lo studente sceglie nei due anni precedenti degli esami in base al quale poi si è giudicati quindi siamo sui 13-14 anni il primo esame intorno ai 15-16 il secondo è 18-19 equivale alla nostra maturità quindi che cosa fanno gli studenti inglesi rispetto ai nostri sono più specializzati nel senso che quando già hanno 16 anni devono indicare 6-7 materie sui quali sostengono degli esami e le altre materie non le studiano più negli ultimi due anni di liceo studiano solo 3 massimo 4 materie e sostengono degli esami che vengono giudicati sulla base della lettera A con stella D, C eccetera eccetera si chiamano A-levels quindi sono una maturità ristretta specializzata su singole materie che serve per serve per entrare all'università le principali università inglesi e americane quelle della Ivy League o quelle di Oxbridge si dice di Oxford e Cambridge accettano con prevalenza gli studenti che provengono da facoltà da scuole superiori che hanno in qualche maniera spinto una specializzazione forte su alcuni studi mi spiego meglio quando io la scuola devo fare medicina nelle migliori scuole di medicina inglese dell'università di Edimburgo per dire io preferisco prendere dei ragazzi che hanno studiato chimica biologia e matematica in una scuola che io so che da 250 anni mi produce degli studenti che poi mi fanno avere un buon voto all'esame di università finale quindi che cosa si crea? si crea una sorta di filiera attraverso la quale le università consentono l'accesso degli studenti che hanno questo tipo di diploma molto rigoroso c'è un filtro rigorosissimo tu pensa che addirittura per entrare ti faccio un esempio personale mia figlia ha fatto quasi tutte le scuole in Inghilterra poi è venuta due anni in Italia ma poi ovviamente per gli ultimi due anni voleva prendere o andare in una scuola molto forte è andato in una di queste scuole che danno accesso alle milioni di università si chiama Seven Hawks è una scuola che è nata nel 1400 quindi ha solo 600 anni di storia per poter entrare in questa scuola a fare gli ultimi due anni di liceo ha fatto un esame con 2000 persone delle quali sono state selezionate 500 e delle quali poi hanno scelto 80 persone e l'è fortunatamente entrata ha finito i due anni di liceo ed è stata immediatamente presa all'università di medicina quindi con un diploma di Keynes e istituto ha il tappeto rosso ha il tappeto rosso un ragazzo bravissimo in gambissima che si prende una maturità italiana con 100 e io li vado a vedere sempre gli esami maturità dei miei ragazzi mi fanno quasi commuovere perché li sostengono in italiano in inglese in francese e in spagnolo con membri esterni noi abbiamo un altro mio vanto noi abbiamo avuto negli ultimi due anni la media di 89 e di 86 e mezzo al diploma di maturità la media siciliana è 77 quella nazionale è 79 quindi siamo un'eccellenza bene i nostri ragazzi anche quelli che prendono 100 e fanno quella che si chiama l'application la richiesta per andare a Oxford probabilmente non sono presi un ragazzo che si è preso 3 e i levels alla City of London Freemans o al Keynes in collaborazione con il City of London Freemans riceverà il trattamento da tappeto rosso del quale dicevamo prima quindi è la maniera per diciamocelo brutalmente di questi tempi è un investimento che si fa sui propri figli assolutamente perché in termini poi di remunerazione tu sai bene adesso la mia veste la mia vecchia pelle da economista metto il cappello il reddito medio in Italia è 30 mila euro all'anno in Inghilterra è 45 mila euro le università come si pubblicizza in Inghilterra dicono quelli che vengono da noi e sono laureati entro 5 anni guadagnano più della media nazionale quindi una persona che va in Inghilterra in un'università di questo tipo è un popolo molto concreto è molto concreto è pragmatico ma è giusto così perché poi al di sopra si crea la sovrastruttura ma la sovrastruttura ci deve essere io dico sempre ai ragazzi voi potete impegnarvi negli ultimi anni del liceo e arrivare a essere manager internazionali avvocati di successo essere serviti a cena in un ristorante esclusivo su una terrazza di Tokyo oppure e va bene lo stesso servire hamburger qui in un quartiere periferico di Palermo col grembiolino dipende da voi perché le capacità le avete io devo mettervi in condizione di diventare un avvocato internazionale un chirurgo di fama mondiale e quindi vi devo dare gli strumenti uno strumento è questa crescita progressiva ma non credi che sia necessario anche fare da parte vostra ma da parte del sistema formativo uno sforzo affinché l'avvocato internazionale possa vivere a Palermo cioè noi siamo noi siamo hai detto una cosa io sono sicurocentrico sono una delle cose troppo profonde hai ragione sicurocentrico noi siamo al centro del Mediterraneo siamo in crocevia fra Europa Africa e Asia la funzione che avete voi non è pure quella come dire di promuovere come dire una crescita generale della società io capisco che stiamo parlando di centinaia di studenti ma non è quella la classe dirigente del futuro quello sarebbe un obiettivo sicuramente di medio termine noi abbiamo un problema enorme in Italia che noi esportiamo lo si dice sempre una banalità ma veramente esportiamo cervelli e importiamo braccia e questo porta a un progressivo impoverimento noi dobbiamo continuare a importare braccia ci mancherebbe altro ma se perdessimo meno cervelli sarebbe forse meglio allora se noi riusciamo a creare un humus veramente competitivo in maniera sana dove tutti si sforzino io quello che dico sempre ai miei professori quando li vedo li vedo spessissimo tra l'altro l'interim di preside del liceo e delle medie non scordiamoci di parlare di medie ci tengo tantissimo perché è il mio progetto pet project direbbero gli inglesi progetto animaletto domestico caccarezza esatto esatto ma io dico sempre ai nostri professori noi abbiamo un dovere perché se viene da noi Usain Bolt record 100 metri atleta meraviglioso giamaicano noi non possiamo permetterci di non allenarlo al meglio perché Bolt ha nelle gambe di fare 9 ormai non più ma aveva le gambe di fare i 100 metri in 9 secondi e mezzo ma se non lo teniamo lì a mangiare torte a sfogliare un fumetto e a non fare niente lui li farà in 10 e mezzo che è un gran risultato io e te noi li facciamo i 100 metri in 10 secondi e mezzo forse in macchina esatto ma non lo portiamo ai limiti allora non è quello che dobbiamo capire dobbiamo capire qual è il talento di ciascuno e lavorare con calma è il compito della politica diciamo chiaramente di creare le premesse affinché un territorio abbia la politica ma anche nostro sai perché per la politica è lo specchio della società siamo noi la politica la polis siamo noi quindi noi tutti insieme io per esempio noi abbiamo si è visto lì un bellissimo teatro io ho detto noi lo diamo a chiunque ce lo chiede noi adesso abbiamo un accordo col conservatorio Scarlatti vengono a fare lezioni vengono a fare lezioni da noi ma fanno anche i saggi da noi eccetera ma noi lo diamo alla cittadinanza ieri abbiamo avuto l'unicef che ha fatto un convegno lì perché vorremmo cercare di diventare un polo attrattivo di tutte quelle forze che esattamente come dici tu vogliono creare un humus collettivo di crescita e di confronto che porti a una rinascita qui 2500 anni fa so che sembra passatista era il centro del mondo la Sicilia perché la parte integrante della Magna Grecia quando uno va agrigento o va ad Ortigia si rende conto che 2500 anni fa qui era la filosofia e quella la cultura che poi ha creato il nostro mondo occidentale la grande differenza che si è creata tra alcune altre aree del mondo è quello che noi chiamiamo occidente adesso con molte difficoltà e distingo e fatica forse è proprio questo è il libero pensiero la matematica e la filosofia ed è stata creata è stata creata qui quindi ridare un ruolo di quel tipo sicuramente sì lo faremo l'anno prossimo non lo so ma sicuramente lì vogliamo arrivare ma tu hai deciso di dedicare i tuoi anni per andare in pensione a questo progetto assolutamente ti terremo d'occhio ti mettiamo alla prova ora ritorniamo un attimo al ciclo formativo che offre l'istituto Keynes a Palermo il preasilo asilo elementari e poi ci sono le medie si era creata una sorta di esatto come il buco del nord stream mancava la media assolutamente che però è il passaggio formativo perché è il momento in cui i bambini diventano adolescenti assolutamente dal punto di vista della crescita e ce lo insegnano tutti i neuropsichiatri ce lo insegna la scienza della pedagogia il periodo tra gli 11 e i 13 anni quello della preadolescenza è assolutamente fondamentale e noi avevamo non dico una ritrosia nell'affrontarla ma volevamo affrontarla in maniera corretta piena allora abbiamo scusate questa tosse non è covid anche se sia covid si passerà il covid passa ormai dobbiamo affrontarlo come dire no sostanzialmente che cosa pensavamo noi pensavamo che fosse corretto creare questa filiera continua volevamo farla quando fossimo stato pronti quest'anno noi ci siamo ritenuti pronti quindi ci siamo presentati alla cittadinanza dicendo benissimo noi adesso facciamo anche le scuole medie le scuole medie sono fondamentali perché si passa da una funzione diciamo di vicegenitorialità che è quella della maestra di riferimento a una pluralità di professori si passa a un'interazione sai che non ci hanno fatto caso è vero non ci fanno caso i genitori perché veramente la scuola media ti prepara a diventare adolescente e adulto perché si passa dall'unico docente alla pluralità di docente quindi abbiamo pensato di concentrarsi su questo abbiamo creato un corpo docente che è un mix tra alcuni docenti che faranno che accompagneranno i ragazzi anche nel liceo in modo tale da creare continuità ma anche alcuni altri docenti molto giovani non ho detto questo veramente ci sono tante cose da dire la media dei nostri docenti penso sia 28-29 anni non vogliamo creare una differenza generazionale i gap generazionali ormai sono di 3 o 4 anni i ragazzi si vestono in maniera diversa sentono musica diversa leggono libri diversi quando speriamo lo facciano più spesso leggono diversi ogni 3 o 4 anni sono salti generazionali quindi noi non vogliamo creare un gap generazionale troppo forte quindi abbiamo professori un po' più giovani al liceo alcuni professori che seguono scusate le medie alcuni professori che seguiranno dalle medie e accompagneranno anche il liceo in maniera tale da non creare delle fratture e da creare in qualche maniera un senso di continuità che cerchiamo poi di stimolare attraverso le attività sportive in comune e tutte altre iniziative la struttura l'avete vista che la nostra struttura ci consente di fare tra l'altro cosa importante mi hai detto prima dell'intervista che si studia pure l'arabo cioè il concetto del plurilingue assolutamente e quello è fondamentale non può in Sicilia non studiare l'arabo la cultura araba è stata soprattutto negli anni direi tra il 700 e il 1200 1300 paradossalmente uno dei baluardi della cultura occidentale perché ha preservato quell'approccio aristotelico e la cultura che altre nazioni avevano completamente dimenticato poi la rinascita carolingia il movimento del monachesimo hanno in qualche maniera ristabilito questa priorità dell'occidente propriamente detto rispetto a quella arabizzato ma guarda che la cultura araba in Sicilia in Andalusia è stata fondamentale è stata fondamentale potremmo annoiare i nostri ascoltatori con 3000 nomi ma non credo li stiamo annoiando perché sei un fiume in piena questo sono io mi dispiace parlare troppo velocemente un rimprovero che mi farò sempre tutti parli troppo velocemente perché voglio dire tante cose voglio sfruttare questa opportunità per dire a chi sta a casa confrontatevi con noi andate dove volete a scuola ma venite a parlare con noi domanda di mille punti cioè io genitore pentito mi rendo conto che è la migliore opportunità per la mia bambina che deve fare il primo anno di scuola media cioè io oggi te la posso portare la tiro fuori dalla no assolutamente sì allora noi abbiamo dei passaggi da adesso fino a gennaio ora per la scuola media l'ideale sarebbe farlo subito proprio per questa logica che dicevamo prima di aspetto di cura psicologica di questo passaggio per il liceo noi abbiamo tante persone che insoddisfatte dei servizi della scuola pubblica o dell'eccessiva mercificazione della proposta culturale didattica da parte di altre scuole private tendono a venire da noi per la scuola media sicuramente qualunque bambino è ben accetto da noi in qualunque momento dell'anno noi preferiremmo che venisse all'inizio dell'anno piuttosto che alla fine però le porte sono sempre aperte se uno dovesse trovare le difficoltà assolutamente questo modello innovativo e moderno assolutamente guarda io tutti i ragazzi io ti potrei dire a memoria i nomi di quasi tutti i ragazzi del liceo tutti i ragazzi del liceo mi danno del tu i ragazzi delle mele li sto cominciando a conoscere adesso visitiamo le classi e parliamo con loro in continuazione devono sentirla casa loro poi certo nessuno è perfetto adesso non voglio dare un'immagine edulcorata ma noi sicuramente facciamo tutto quello che è meglio fare quello che pensiamo sia meglio fare lo facciamo con il cuore e cerchiamo di garantire 4, 5, 8 perché garantiamo anche per i bambini più piccoli fino alle 6 del pomeriggio ore di felicità nella nostra scuola che è un vantaggio che è un vantaggio perché per chi lavora è un grande vantaggio io non voglio fare sempre la figura dello statalista però lì diciamo assolvete una chiara carenza dello stato assolutamente e poi però in un silinito pubblico c'è no voglio dire una cosa perché poi è importante noi viviamo di collaborazione parlando di quella con l'Unicef ma sotto da noi abbiamo tutti quei bellissimi giardini e quell'attività sportiva che sono gestite da due ragazzi una c'è si chiama Ivan noi con cui abbiamo una joint venture consolidata sono ragazze adorabili che quindi curano tutto l'aspetto sportivo quindi si viene l'insana incorpora assolutamente finisce da noi in scuola alle 4 4 e mezza alle 2 a seconda del corso di studi e dell'una bene poi a dar giù fai tennis il genitore lo lascia lì molti avranno riconosciuto i giardini perché questa è una storia recentissima una storia di innovazione imprenditoriale applicata al mondo della scuola ma anche è una storia antica assolutamente abbiamo 100 anni di storia o meglio hanno costruito 100 anni di storia le ancelle che hanno gestito una scuola in quella stessa location per 96 o 97 anni questa spinta propulsiva era un po' diminuita però quella era una scuola di stampo cattolico quella era una scuola cattolica voi non avete perso però del tutto la matrice cattolica non si può noi siamo in Sicilia siamo in Italia siamo in Occidente la cultura cattolica non pervade la nostra civiltà io ho fatto scuole cattoliche il fatto che si sia credenti o meno è assolutamente irrilevante rispetto all'importanza della cultura cattolica la nostra storia noi quando abbiamo rilevato questa scuola nella gestione abbiamo garantito alle ancelle che l'educazione cattolica sarebbe stata data per tutto il ciclo perlomeno delle scuole di infanzia ed elementari perché è giusto avviare a questo tipo di confronto studio ricerca poi certo un ragazzo di 14 15-16 anni che scelte la via dell'essere agnostico è liberissimo di farlo e noi siamo contentissimi della verità qualunque credo religioso e accolto io ho fatto mettere abbiamo fatto realizzare per parlare quanto la verità è importante per noi da un artista palermitano una serie di quadri che mostrano come la pelle degli esseri umani da bianca a bianca a bianca diventa bianca un po' più scura diventa marroncina può diventare gialla e poi diventa nera nera ma sempre essere umano è i nostri ragazzi ogni volta quelli del liceo ogni volta che entra in classe vedono questi 12 ritratti di esseri umani con un colore della pelle di variante guarda che anche qui in Sicilia se ne vedono di colori della pelle di essere guarda qua sono rivastro esatto ma devono capire che la diversità è un valore quindi il loro amico islamico ha esattamente lo stesso diritto di professare la sua fede il loro amico completamente ateo ha lo stesso diritto di essere fieramente ateo ma noi abbiamo il dovere di presentare introdurre proporre quella che è la religione che per tanti anni cent'anni ha contraddistinto l'educazione all'encelle io ti ringrazio il tempo a nostra disposizione è stata una chiacchierata bellissima anche spastosa e divertente insomma io vorrei concludere con una battuta prima di tutto ti ringrazio per il tempo e ringrazio chi ci ha seguito ma alla fine e lì c'è una missione è una missione molto semplice creare un mondo migliore assolutamente e solo chiunque è benvenuto entra a venire da noi farsi una chiacchierata e conoscerci personalmente siamo lì siamo lì per voi è stato il tempo ben dedicato grazie a Fabrizio grazie a chi ci ha seguito arriverci alla prossima puntata di Talk Sicilia